Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Terraria! Allora ragazzi, rispetto all'ultima volta, in realtà io sto continuando esattamente da dove ci siamo salutati, perché è lo stesso giorno, ragazzi, in realtà. Sono molto curioso di andare ad aprire la cesta del deserto che si trova nel dungeon, e quindi ho deciso di andare avanti, fin tanto che non riuscirò a metterci le mani sopra. Quindi, sto andando, come potete vedere, direttamente nel dungeon. Se ricordo bene, dovremmo averla già incrociata, la cesta del deserto, però non sono sicuro. Di sicuro ne ho incrociate almeno altre due di quelle cest particolari, e se ricordo appunto bene, una di queste due dovrebbe essere quella che fa comodo a noi. Quindi adesso sto cercando di arrivare al dungeon, eccoci qua, i cultisti li lasciamo stare per il momento, non è mia intenzione andarli a disturbare, ragazzi. E anzi, vediamo un po' se dalla mappa riesco a individuare più o meno dove si trova la nostra cesta. Questa, no, questa è una lampada, questa è una libreria, questa è quella della corruzione, ok. Questa è un'altra lampada. Non è proprio semplicissimo, in effetti, riuscire a riconoscere gli oggetti guardando la mappa di Terraria, perché non è che sia poi così dettagliata... cioè, è dettagliatissima, eh. Però le icone sono veramente troppo stilizzate, ragazzi. Un pixel può significare di tutto e di più. Quindi mi sa che conviene che ci vado in prima persona, ragazzi. Allora, evochiamo anche i nostri minion e vediamo di proseguire. Tanto credo che con la Morningstar dovremmo riuscire a tenere a bada abbastanza facilmente tutti i mob che ormai ci sono all'interno del dungeon. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi, vediamo un po'... esatto. Perfetto. E quindi qua dentro ci troviamo questo oggetto particolare, la Desert Tiger Staff, che ci fa evocare una tigre. credo sia la prima volta che la vedo, sinceramente, non mi ricordo di averci mai avuto a che fare nelle mie vecchie partite con questo animale, con questo minion. ed è un minion, ed è un minion diverso dagli altri perché non ne possiamo evocare più di una, quindi probabilmente in base a quello che è la nostra capacità di minion sarà più potente. Non lo so, devo andarmi a documentare sulla wiki, sinceramente. intanto qua c'è un sacco di brutta gente che vuol finire male. Ok. Eh. Eh. Ho finito male io, ragazzi, non me l'aspettavo. Va bene. Bene, comunque abbiamo trovato la nostra chest, quindi ho recuperato intanto il suo drop unico, però sono abbastanza intenzionato ad andare avanti ancora un pochino con l'esplorazione, anche perché ho lasciato laggiù un sacco di soldi, ragazzi, perché morendo ho droppato davvero troppa roba. Comunque, rivediamo la nostra tigre. Magari me la porto dietro nel dungeon, così la testiamo un pochino meglio, però vedete, allora, questa fa 51 innanzitutto, mentre la mia Deadly Sphere fa 55. Non so, però vedete, adesso, se io mi potenzio e vado ad evocare la nostra tigre, vedete, malgrado io continui a evocare di tigre, ce n'è sempre solo una. Non ce n'è di più. Il dubbio, appunto, è se questa cosa fa più danno rispetto alle Deadly Sphere, oppure no. Una cosa interessante, da quel che posso vedere... No, forse mi sono sbagliato, ragazzi. Ero convinto che attraversasse i blocchi, però probabilmente è passato semplicemente dalla porta che era rimasta aperta. Va bene, niente, a questo punto io torno nel dungeon a farmare un po', a recuperare i soldi, e ci vediamo più tardi. Allora, ragazzi, vi parlo in fase di editing, perché sono andato a controllare le informazioni relativi alla Desert Tiger Staff, così riesco a essere un pochino più preciso. Vi confermo che la tigre che andiamo ad evocare, più è il numero di minion che noi possiamo andare ad evocare, e maggiore è la sua velocità e il danno che fa. Cambia anche di aspetto, perché oltre i tre minion, cambia, diventa più grande, e oltre i sei minion, diventa ancora più grande con un'armatura dorata. Di fatto, però, per ogni numero di minion che noi possiamo andare ad evocare, lei sarà più pericolosa, più veloce, più letale. Quindi, anche se è una sola, è comunque un minion molto molto interessante. Per il resto, ragazzi, ho farmato un po' nel dungeon, ho recuperato i soldi che avevo perso, e poi purtroppo non sono più riuscito a giocare per un sacco di tempo. Quindi, a distanza di una settimana e mezza, sono finalmente riuscito a rimetterci mano. E quindi vi lascio al resto dell'avventura, ragazzi. Allora, ragazzi, non so se vi lascerò un'accelerazione della modifica che ho fatto, delle costruzioni che ho fatto qui nella mia farm, però, come potete vedere, ho modificato un pochino. Innanzitutto, ho messo un teletrasporto in modo da poter entrare direttamente qua dentro, e così ho allargato leggermente questa struttura. Gli ho anche messo uno sfondo, giusto per decorazione, diciamo. E, soprattutto, qua sotto, come potete vedere, ho seguito uno dei vostri consigli e ho smaterializzato questa struttura in modo che così nessuno ci si possa appoggiare sopra. E, in questo modo, tutti i mob, soprattutto i boss, visto che l'Everscream, il Lent che abbiamo visto la volta scorsa, salendo sui blocchi non subiva il danno della lava, in questo modo, invece, subirà il danno della lava. Altre modifiche che ho fatto, ragazzi, appunto, a parte questa che, per poterla fare, sono dovuto andare nel Tempio della Giungla a recuperare un altro paio di trappole, visto che ho alzato la colonna di Dardy, ma una modifica fondamentale che mi sono dimenticato la volta scorsa è stato quello di piazzare i banner degli slime. In teoria, da questa statua dovrebbero spawnare solo gli slime blu, ma già che ce l'avevo a portata di mano, ho fatto che mettere anche quello verde. In questo modo, il danno che andremo a prendere dai nostri slime è molto molto più ridotto e, di conseguenza, dovremmo riuscire a sopravvivere un pochino meglio. Per il resto, ragazzi, mi avete suggerito di mettere giù la statua cuore. Sinceramente, lo so benissimo che collegando con i timer la statua cuore potrei far spawnare dei cuori, ma non l'ho ancora trovata, quella statua, e già la volta scorsa ho forzato un po' la mano andando alla ricerca della statua slime utilizzando TerraMap. E la cosa non vorrei ripeterla in continuazione. Intanto qui è arrivata la Blood Moon, mannaggia, io volevo fare l'evento. Vabbè, lo facciamo lo stesso, ragazzi. Quindi mi equipaggio con gli oggetti vari necessari appunto per questa nostra campagna contro la Pumpkin Moon e vediamo se funziona. L'unica modifica rispetto alla volta scorsa è che voglio provare a usare anche la Shiny Stone che ci ha droppato il Golem. Me l'avete suggerita anche questa voi, ragazzi. Quindi vediamo come va. Immergiamoci quindi nel nostro miele. Evochiamo, già che ci siamo qua sotto, anche la nostra torretta, così facciamo più in fretta. Sto utilizzando il minion della tigre del deserto che abbiamo ottenuto nel dungeon. E vediamo come va, ragazzi. Ah, come non detto, ragazzi. Mi sono appena accorto che ho dimenticato la cosa fondamentale per vedere come va. Ovvero, l'oggetto per evocare la Pumpkin Moon. Mannaggia, che stupido. E vabbè, niente. Vi ho fatto comunque la spiegazione di tutto quello che ho fatto. A questo punto direi di andare... Ah, giusto. Senza ali, col cavolo che volo. Dicevo, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Non riesco a volare. E ci credo che non riesco a volare. Senza ali. Vabbè, niente. A questo punto, ragazzi, devo tornare per forza di cose a casa. Oddio, dovrò rifarmare... Non mi ricordo più cosa servivano. Le Hallowed Bar le avevo. Le zucche non sono certo un problema. Però potrebbe essere un problema l'altra cosa. Perché non mi ricordo che cosa ci andasse, ragazzi. Tutte le volte... Ah, gli ectoplasmi. Adesso mi è venuto in mente. Ok, qui ci sono le Hallowed Bars. E adesso è solo questione di trovare le zucche, ragazzi. Che credo siano nella chest qui delle cose naturali. E infatti, eccole qua. Bene. Mi dispiace solo che ho perso un po' di tempo. La notte ormai è già avanzata. Non so a che punto siamo. Non so se ha senso tentare comunque la sorte. Però intanto ci andiamo a craftare il medaglione. Eccolo qua. Perfetto. Non ne posso craftare altri, in realtà. Perché ho finito le Hallowed Bars. Quindi mi converrebbe andare a fare il Destroyer. Visto che è il mob meccanico più facile da fare fuori. Potrebbe valerne la pena. Il problema è che per fare il Destroyer. Devo ricordarmi come si evoca. Come si craftano i suoi componenti. Vabbè, ragazzi. Non ho il materiale per evocare il Destroyer. Però ho qui gli oggetti per evocare i Twins e Skeletron Prime. Quindi tanto vale provare ad affrontare uno di questi. Vediamo come va. È un po' che non ne affronto. Chissà se riesco comunque a tenere il passo. Però mi conviene andare ad affrontarlo dove ho la farm. Non fosse altro che laggiù ho tutti i miei buff. Mentre qui a questo punto non ho più niente. Quindi mi conviene decisamente andare là. E mi conviene anche riequipaggiare la mia Beetle Armor. Così sono un pochino più protetto. Vediamo se ce la faccio anche senza pozioni. Visto che comunque siamo andati avanti. In teoria adesso sono un pochino più resistente rispetto al passato. Però non ho idea di come possa funzionare. Proviamoci. Prendiamo la nostra Piranha Gun. E spariamola addosso a Skeletron Prime. In questo modo dovremmo riuscire a fargli danno. E vediamo come va. Prendiamo la nostra Piranha Gun. Prendiamo la nostra Piranha Gun. Oh ragazzi non ci credo. Perché per come si era messa pensavo che non ce l'avrei fatta a sconfiggerlo. E invece ce l'ho fatta. Per il rotto della cuffia eh. Però ottimo. Ed era pure una Blood Moon. Quindi è pieno di brutte bestie che non mi lasciano in pace. Guardate quanti mob fastidiosi. Devo dire che la Morning Star è un'arma stupenda ragazzi. Perché mi ha consentito di vincere senza dover prendere praticamente pozioni. E mi ha consentito anche di tenere a bada una gran quantità di mob. Quindi ottimo così. E in questo modo dovrei aver ottenuto un bel po' di Hallowed Bars. Però per vedere quante ne otterrò torniamo a casa. E adesso dovrò naturalmente aspettare la prossima notte per poter affrontare la Pumpkin Moon. Però intanto posiamo un po' di roba. Ok. Andiamo ad aprire quindi questa roba qua. Uh. Un'armatura in realtà soltanto estetica. Ok. Però sembra molto carina. Vabbè. Lasciamo stare. Preferisco tenermi le mie armature equipaggiate. E poi abbiamo 35 Hallowed Bars. Ottimo. Direi veramente ottimo. Perché così possiamo andare a craftarci tutti i medaglioni che vogliamo. Cioè tutti. Oddio. Un bel po' di medaglioni comunque li possiamo andare a craftare ragazzi. Quindi lo farei subito. Così ci togliamo il pensiero. Ok. Adesso abbiamo almeno 4 tentativi per affrontare la nostra Pumpkin Moon. Molto molto bene. Ok ragazzi. Eccoci qua. Come vedete ho smantellato un pezzo della mia Skyrod. Perché mi è venuto il dubbio che potesse essere un problema avere i mob che spawnavano sopra la mia testa. E ho fatto anche un'altra piccola modifica che non mi convince ancora del tutto ma potrebbe come dire essere riproposta per decorare un pochino meglio l'arena anche sugli altri punti. Comunque è arrivata già la notte quindi non perderei ulteriormente tempo. Devo soltanto scambiarmi i vari accessori diciamo per migliorare le mie capacità di difesa. E poi per il resto ragazzi siamo pronti finalmente ad affrontare l'invasione. Quindi facciamolo. Attiviamo subito la nostra farm. Evochiamo la Pumpkin Moon. E vediamo come va ragazzi. Intanto dovrei fare anche un pochino di ordine perché non ho posato niente. Quindi facciamolo. Mentre che mi vengono addosso tutti i vari mob io vedo di occuparmi di mettere un po' di ordine. Quindi togliamo un po' questa roba. C'era altro da togliere. In realtà no. Possiamo anche far spawnare la nostra torretta che così mi dà anche lei una mano. Possiamo anche spawnare i minion. Che in effetti non avevo fatto spawnare ma mi sarebbe... Non so se mi conviene usare questi o se mi conviene usare la tigre. Questi fanno 55 mentre questa fa 51. Ma lasciamo così va? Teniamoci buona questa. Comunque ragazzi come potete vedere non sto subendo praticamente nessun danno. Grazie ai banner che ho messo e agli accessori che ho equipaggiato gli slime non riescono a farmi praticamente niente. Il che è ottimo ragazzi perché sta funzionando esattamente come speravo. Ora bisogna vedere, adesso che sta arrivando l'Evergreen... No, non mi ricordo mai il nome dell'ent, scusate ragazzi. Però adesso che c'è il primo dei boss della Pumpkin Moon, vediamo come si comporta. Ah, Morningwood. Ok. Ecco, sto prendendo danno ragazzi. Quindi comunque non è che sono totalmente invulnerabile. Però sta andando decisamente bene lo stesso perché... Ah no, sono tornato praticamente full. Tutta la rigenerazione che ho grazie all'accessorio che ci ha droppato il Golem e a tutti gli altri oggetti che abbiamo mi stanno facendo sopportare più che bene il Morningwood. Molto molto bene ragazzi. Vedete, io sono praticamente tranquillo. Non sto toccando neanche la tastiera. Quindi sto lasciando proprio che faccia tutto il mio setup. Siamo alla Wave 6. Ce ne sono 14 se ricordo bene. Il che vuol dire che siamo messi tutto sommato a metà strada quasi. La notte è ancora lunga quindi potremmo anche farcela ragazzi. Io magari per scrupolo se vedo che scende troppo la mia vita mi prendo una pozione di cura. Però per il resto direi che sta andando più che bene ragazzi. Quindi molto presto potrebbe anche essere che vedremo l'altro mini boss. Ovvero il Jack O'Lantern. Che non ricordo se effettivamente in Terraria si chiama Jack O'Lantern o se ha un altro nome. Intanto qua sotto come vedete il Morningwood sta per essere ucciso. E quindi finalmente avremo ucciso un mini boss di questa ondata. Ok ne è arrivato anche un altro. Forse quello che sto notando è che le mie lance sono un po' inutili. Perché non scendono abbastanza ragazzi per colpire i mob. Quindi forse forse per il futuro mi converrebbe togliere le lance da lì. E sostituirle magari di nuovo con le Spiky Bowls. Intanto siamo ancora alla wave set. Eh le ultime wave... Oh eccolo ragazzi. Intanto è arrivato. Vediamo come ce la caviamo contro di lui. Dov'è il mio mouse? Eccolo qua. Pump King. Ok. Non è il Jack O'Lantern ma il Pump King. Non mi ricordavo il nome ragazzi. Ad ogni modo lui è il mini boss più pericoloso della Pump King Moon. E si vede perché la mia vita comunque sta scendendo parecchio eh. Magari una pozione per sicurezza me la prendo. Giusto per stare un po' più tranquilli ragazzi. E vediamo come va. Non sembra stia andando così male tutto sommato. Non c'è molto altro da dire in effetti. Si tratta soltanto di stare qui. E guardare. Stare a guardare come funziona. Per ora mi sembra che stia funzionando bene. Ci sono anche un bel po' di drop qua sotto. Vedo un sacco di cuori. Mi piacerebbe sinceramente ottenere qualche oggetto interessante. Nello specifico c'è una spada che mi piacerebbe davvero tanto ottenere. E che però non so se riesco ad ottenerla. Uh intanto è morto. Non me ne sono accorto. Io stavo guardando qua sotto. E non ho visto che è morto il mini boss. Quindi il Pumpkin muore ragazzi. Ottimo. Ottimo così. E praticamente il Pumpkin lo sta uccidendo soltanto lo Starveil con la pioggia di stelle. Perché non c'è altro che gli possa fare danno a lui. Quindi incredibile ragazzi. Come vedete sono quasi sempre full. Quindi direi che sono riuscito nel mio intento. Ora l'unico problema potrebbe essere che non è abbastanza veloce la mia farm per togliere di mezzo tutte le 14 ondate. Perché siamo già alle 2 di notte. E purtroppo sono soltanto alla wave 9. Il che potrebbe voler dire appunto che non ce la faremo. Però è stato sicuramente un ottimo passo avanti rispetto all'altra volta. Cosa ne dite? Intanto faccio spawnare di nuovo la mia cosa qua. Farei spawnare già che ci siamo anche se ce la faccio la Clinger Staff. Così facciamo più danno al nostro Pumpkin. E già che ci siamo non so se gli fanno danno ma io faccio spawnare anche la Nimbus Rod. Ok. Sicuramente ragazzi abbasserò il volume del gioco perché sennò sentirete un sacco di casino. Perché tra io che subisco il danno degli slime. Tra le trappole. Tra le morti dei mob. C'è davvero un gran casino di sottofondo. Infatti credo di stare urlando praticamente. Ma vedremo in fase di editing. C'è davvero un gran casino di sottofondo. Ok ragazzi purtroppo la notte è finita come avete visto. Sono riuscito comunque ad uccidere 3, 2 o 3 ho perso il conto sinceramente Pumpkin. E qua sotto c'è un l'ennesimo Morning Wood. Ora so che se lo tolgo dallo schermo questo sparisce. Quindi resto così ancora fermo un attimo. Così vediamo di uccidere anche questo e ottenere i suoi drop. Inoltre ho visto che come è finito l'invasione della Pumpkin Moon è arrivata anche un'invasione di Goblin. Quindi tanto vale che resto qua e lascio che muoiano male anche i Goblin. Detto questo ragazzi già qua sotto vedo una cosa interessante. Il mio mouse si è fermato esattamente su un Armored Necromantic Scroll. Che è un oggetto piuttosto interessante ragazzi. E in più qua sotto vedo che ci sono un sacco di altre cosine. Quindi non vedo l'ora di andare a vedere di che cosa si tratta. Intanto qui sono arrivati anche i Goblin. Quindi già che ci siamo ragazzi io evocherei di nuovo la mia torretta qua fuori. Ok. Visto che ci sono anche quelli volanti che quindi subiranno decisamente molto meno danno rispetto a quelli a terra. Così almeno ci pensa la torretta magari a fargli danno. Direi che come farm AFK tra virgolette sta funzionando abbastanza bene devo dire. Quindi sono già molto soddisfatto. Come vedete però l'evocatore diciamo dei Goblin è riuscito a farmi parecchio danno. Adesso sto recuperando pian piano la vita però mi ha tolto un bel po' di punti. Quindi non è da sottovalutare la cosa. Ok il Marnin Wood è morto. Quindi io spegnerei questo gran casino ragazzi. Vi chiedo scusa per tutto il rumore che fa sta farm. Che casino mamma mia finalmente abbiamo finito. Ottimo. Togliamo di mezzo gli ultimi slime. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Ops. E adesso si tratta di andare a recuperare tutto il ben di dio che c'è qua sotto. Tra l'altro mi sa che è finita anche l'invasione dei Goblin perché non vedo più la barra qua sotto. Quindi forse ce l'ho già fatta a sbaragliarla. Incredibile. Allora ragazzi a quanto pare ho riempito sia l'inventario che il portale. Quindi devo fare un attimo uno scambio diciamo tra gli oggetti più interessanti e quelli un po' meno interessanti. In modo che così se dovessero andare persi non ci rimetto. E poi naturalmente una volta che sarò tornato a casa a svuotarmi l'inventario tornerò comunque a recuperare anche questi. Però appunto ci sono stati dei drop piuttosto interessanti perché ad esempio questo scroll a me interessa un sacco. Ok. Boh. Il resto anche dovesse despawnare non è un problema. Non è così tragica ragazzi. Ah già non posso volare. Mi dimentico sempre che avendo scambiato gli equipaggiamenti ragazzi sono molto meno mobile di quanto non sia normalmente. Ok. Ripristinati quindi i nostri accessori. Direi che è il momento di tornare a casa. E direi che il fatto di aver tolto la Skyroad da qua sopra in effetti è servito. Allora intanto mi sa che l'invasione dei Goblin non era stata sconfitta. Semplicemente non erano arrivati questi maledetti. O si sono fatti furbi e non vengono qua perché c'è la lava. Ma nel dubbio a questo punto io torno qui ad aspettarli. Dai fatevi sotto ragazzi. Forza. Non arrivano. Mi sa che sono più furbi di quanto pensassi sti Goblin. Vabbè li uccido alla vecchia maniera ragazzi. Poi torno a recuperare gli oggetti e ci vediamo più tardi quindi. Ok ragazzi ho eliminato l'invasione dei Goblin. e quindi sono qui che stavo controllando un po' che cosa abbiamo ottenuto dalla scorsa notte contro la Pumpkin Moon. E devo dire che abbiamo ottenuto diverse cose abbastanza interessanti. Questo Shadow Flame Bow non sono sicuro se me l'hanno droppato i Goblin o se me l'ha droppato la Pumpkin Moon. Ma credo sia uno dei drop dei Goblin. Comunque è un ottimo arco interessante. Poi per il resto ragazzi a parte un bel po' di Spooky Wood con cui possiamo andare a fare anche un'armatura per gli Evocatori. Qui abbiamo, vabbè, questi sono sempre frutto dei Goblin. Ammazzando l'Evocatore Goblin si ottiene quest'arma che lancia questi coltellini magici. Ah no, è un'arma melee, credevo fosse magica ragazzi. Poi qui abbiamo lo Spooky Twig che è un materiale che adesso non ricordo esattamente che cosa ci fa craftare ma lo andiamo subito a verificare con la nostra guida. Abbiamo il Necromantic Scroll che è un accessorio che ci fa aumentare di uno il numero dei Minion che possiamo evocare e inoltre incrementa del 10% il loro danno. Quindi immaginate questo combinato con la Tiki Armor e con altri accessori che potenziano, diciamo, il numero dei nostri Minion quanto potremmo diventare potenti come Evocatori. Poi, vabbè, abbiamo ottenuto la Candy Corn Rifle che è una pistola che però spara, appunto, proiettili speciali, ovvero questi Candy Corn. E poi, vabbè, ci sono i trofei. Quindi abbiamo quello del Punking e quello del Morning Wood. E poi, vabbè, a parte questo ci sono i costumi da Spaventapasseri. Ne ho trovati addirittura due, tre, anzi, quasi completi. E poi c'è questa Black Fairy Dust che anche lei non mi ricordo che cosa serva. Quindi andiamo subito a vederlo, ragazzi. Sono abbastanza curioso. Mi dispiace, appunto, non essere riuscito a completare l'evento. Devo fare delle piccole modifiche alla mia arena per vedere se ci posso riuscire. Credo che basti aumentare il numero di trappole, però non ne sono così sicuro. Farò dei test. Allora, vediamo soltanto un secondo a che cosa serviva questo. Ok, per evocare delle ali. Evocare, sì, buonanotte. Per craftare delle ali. E le Black Fairy Dust, anche questo per craftare delle ali. Molto, molto bene. A questo punto, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Allora, vi saluto qua. E la prossima volta potrebbe essere che testiamo la nostra farm. Io intanto farò delle ottimizzazioni in proposito. Però, appunto, mi piacerebbe la prossima volta riuscire a far fuori anche la Frost Moon. Che, come vi ho detto, non sono mai riuscito a battere in nessuna delle mie avventure su Terraria. Intanto vedo che c'è la notte delle lanterne. Perché, a quanto pare, aver ucciso il Morning Wood o lo Skar King o il Pump King, anzi, evidentemente sono considerati boss. Quindi, anche se non ho completato le 14 wave, abbiamo comunque la nostra bella notte delle lanterne. Vabbè, direi che per questa volta è tutto, ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao. 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 Grazie.